dall'esterno prima di salire possiamo notare sulla zona della cucina l'aggancio per il tavolo all'esterno quindi lo stesso tavolino che c'è all'interno può essere utilizzato per le soste all'aperto sempre sul portellone vediamo la zanzariera scorrevole plissettata e montata in questo caso con anch'essa parte di un pacchettino e l'altra particolarità del veicolo che è il frigorifero che troviamo in fianco all'ingresso è un frigorifero a compressore quindi funziona benissimo con il 12 volt soprattutto nel periodo estivo mi garantisce prestazioni molto superiori rispetto a un trivalente la sua praticità è quella di potersi aprire dai due lati quindi quando io sono all'esterno del veicolo lo apro in questo modo e ho un comodo accesso dalla parte esterna quando invece io mi trovo all'interno del veicolo lo apro lato contrario e chiaramente ho piena accessibilità sul lato interno la zona della dinetta ha i due sedili cabina girevoli come vi anticipavo dall'esterno hanno le foderine in tinta con la stessa colorazione della tapezzeria e la dinetta due posti fronte marcia chiaramente con cintura e poggia testa sulla parte bassa del tavolino troviamo una presa usb utile per ricaricare tutti i nostri device e le varie bocchette della canalizzazione interna dell'impianto di riscaldamento il mobile anche quest'anno mcluis ci ha cambiato la colorazione interna quindi abbiamo una tonalità molto automotive con questo contrasto chiaro scuro una particolarità di mcluis è la capelliera quest'anno tanti se non tutti hanno scelto di togliere la capelliera sopra cabina per dare più sensazione di spazio a chi sta seduto nella zona cabina qui invece è stata fatta la scelta contraria quindi lasciare la capelliera e avere chiaramente un'ampia zona di stivaggio nella parte sopra cabina è un vano che rimane sempre molto utile dal mio punto di vista passando alla cucina sopra il frigorifero abbiamo il fornello due fuochi con accensione piezoelettrica e a destra invece troviamo il lavello con il suo miscelatore con canna molto comoda per il lavaggio e tre cassettoni disponibili l'armadio che è a fianco della cucina è molto pratico perché sulla parte alta ha questo piano disponibile che mi serve come ulteriore piano d'appoggio della cucina e poi quando io sono seduto nella zona della dinette ho molta più aria e luce che mi arriva dalla zona posteriore perché non ho la colonna che mediamente troviamo qui sopra all'armadio dove è posizionato il frigorifero perché in questo caso il frigorifero è posizionato qui all'ingresso passando alla zona bagno qui troviamo la nuova piantina che mcluise ha studiato per i van vedete che tutta la zona di fronte all'ingresso rimane uno spazio libero per la doccia con colonna c'è poi una tendina che è quella che adesso vediamo impacchettata lì sotto che attraverso dei ganci magnetici mi va a chiudere completamente la zona che sto inquadrando quindi la zona del lavabo e del vc in maniera da non andare mai a bagnare questa zona e come vi dicevo mcluise ha scelto di tenere la finestra sempre disponibile anche in questa nuova configurazione sulla parte alta poi trovate il mobiletto apribile con antaspecchio e un secondo specchio sul lato sinistro sopra al vc e al porta asciugamani andando alla zona posteriore del veicolo invece troviamo i due letti matrimoniali posizionabili come vi dicevo prima a vostro gradimento c'è la scaletta che viene agganciata su questi due gancetti qui per poter salire al letto superiore il letto alto è dotato di plafoniera sul lato passeggero nel senso di marcia e sulla parte opposta quindi sul lato guidatore di due pensili chiusi c'è oblò a tetto per l'aerazione il letto inferiore ha i due farettini di cortesia ogni faretto ha un attacco usb come lo possiamo vedere adesso col dettaglio qui per sempre la ricarica cellulari tablet o tutto quello di cui possiamo necessitare vediamo anche la parte inferiore del letto superi del letto alto per capirci dove la rete è a doghe e sono due reti singole quindi posso anche parzializzare e ogni rete ha la sua dotazione di sicurezza di reti anticaduta questo here è l'occasioneoko e quindi per eccocii eccoci